Scegliamo innanzitutto un punto di partenza, riva o scena, porto o evento, navigazione o racconto. Poi diventerà meno importante da dove siamo partiti e più fin dove siamo giunti, quel che si è visto e come. Talvolta tutti i mari sembrano uno solo, specie quando la traversata è lunga. Talvolta ognuno di essi è un altro mare. Il Mediterraneo è a un tempo simile e in un altro diverso a se stesso. Beh, l'incipit di questo trattato poetico-filosofico, romanzo postmoderno, portolano, diario di bordo, libro di preghiere, midrash, raccolta di aforismi, antologia di racconti saggio, cronaca di un viaggio, tutte le definizioni che sono state attribuite all'uscita al nostro breviario mediterraneo, di Pesvak Matvejevic. Un libro meraviglioso, un libro lento, un libro che puoi leggerti anche tutto di un sorso in una notte, ma che preferirai tenere sicuramente sul comodino e leggertene ogni tanto un frammento, guardarti una cartina. Dentro c'è tutto, poesia, architettura, cibo, linguistica, oceanografia, giochi di parole, avventure, epica. È un libro fondamentale per capire a che cultura apparteniamo e per riconoscerci in questa cultura trasversale appartenente a tutti i popoli del Mediterraneo. Ma è anche un libro prolifico, se lo leggi avrai sicuramente tanti viaggi e tante idee in mente da portare avanti.